La scena madre di Agab, i titoli di coda, vedere per credere, secondo me è una delle scena madre, o almeno è una delle scene che ha suscitato i pareri contrastanti. La scena madre intesa come scena che racchiude un po' l'anima, il senso di un film, non necessariamente è una scena, lo dico da regista, che tu magari pensavi, scrivendolo, che quella sarebbe stata la scena madre, poi facendolo e montandolo al film, può variare. Questo per dire che qua alla fine la scena madre in realtà in un film non c'è, cioè se un buon film è tutto un crescendo dove è difficile poi scorporare i pezzi, cioè si dice sempre che un film perfetto, se gli togli anche un piccolo elemento, il film crolla. Quindi io personalmente quando vado al cinema dipende anche in che stato mi trovo, perché ci sono delle volte in cui vai a cercare un film magari di impegno, perché su un tema fatto da un regista che ti interessa, su un tema che ti interessa, se no semplicemente vai a cercare un intrattenimento. In quel caso scena madre è un parolone, in Batman scena madre quale sarà? Io ho già avuto i titoli, per me quella è la scena madre. Grazie.